L'idea è che metà studenti vadano per metà settimana in classe di Bissu e l'altra metà collegati da casa a seguire quello che l'altra metà della classe fa. Perché mentre i cinque per esempio della difesa vanno in avanti, gli cinque attaccanti le trocedano e così viceversa. Allora la gente pensa, perché c'è cinque giocatori in più? Invece no. E perché mentre i cinque vanno avanti gli altri cinque vanno dietro. E durante questa confusione generale le squadre avversari si diranno, oh oh, che sta succedendo? E non ci capiscono niente. Nemmeno noi.